Le ultime che arrivano dall'Ucraina tengono in apprezzione non poco chi da anni ha scommesso sulla nazione con le proprie aziende. Umberto Marini, imprenditore del settore della farmaceutica ai nostri microfoni, racconta l'angoscia di queste ultime ore dove non ha più notizie dei suoi collaboratori. In Ucraina sono presente con una organizzazione, una filiale e fino a ieri sera ho ricevuto comunque messaggi via whatsapp o comunque via mail. Da ieri non ho più notizie. In bilico c'è la democrazia ucraina, per questo tornare a fare imprenditoria in quei posti non sarà più cosa semplice. Non è la parte finanziaria e economica che viene a essere distrutta, è tutta l'organizzazione. Organizzazione di un posto come l'Ucraina dove trovare persone affidabili, corrette è sempre molto difficile. Invece adesso con la guerra di parto verrà bolverizzato tutto l'investimento umano. In questo momento quanto potrebbero essere fondamentali degli aiuti per queste persone e in che modo? Ora io non sono un politico, faccio imprese. Dico sempre che quando si fa qualcosa bisogna vedere i pro e i contro. Gli investimenti fatti dicono che quello è un popolo che comunque ha una grande forza. Aiutarli significa in questo momento forse mandargli le armi, ma non è il mio compito. Dal punto di vista umano l'unica cosa è stargli vicino, ma bisognerebbe avere le comunicazioni. In questo momento le comunicazioni stanno sempre di più diventando impossibili. Io auguro all'Ucraina un grande divenire, certamente non sotto la Russia.